Io l'ho detto, non c'è certezza del futuro. Io voglio aiutare i Liguri che si sono battuti per scrivere un'altra storia. Il modo con il quale aiutarli oggi per me è l'associazione. Che cosa capiterà domani, il mese prossimo, non lo so. Se capiterà valuterò, come ho sempre fatto. Nessuno poteva immaginare che a un certo punto mi venisse proposto di candidarmi per le primarie. Quando è successo ho preso il tempo che serviva, ci ho ragionato e poi ho parlato con chi mi ha fatto la proposta e con voi.